Mara Hotel si inaugura oggi la festa del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo, un evento patrocinato dalla regione Sicilia e dal comune di Mazzara del Vallo. Accanto a me il professor San Martano. Allora professore, in che modo si può così rilanciare l'economia di Mazzara ma anche la cucina? Io direi che l'economia di Mazzara si può rilanciare attraverso lo sviluppo e la conscienza del territorio. Il prodotto del Gambero Rosso che noi abbiamo voluto prendere come simbolo di questa città, che è forse l'unico vero simbolo di Mazzara pescato a certe profondità, deve rappresentare per Mazzara un prodotto che deve essere conosciuto come in realtà conosciuto in tutta Italia e tutta Europa. Noi ci proponiamo con questo evento, che intendiamo ripetere negli anni futuri, ci proponiamo di far crescere questa cittadina con la conoscenza e sviluppare anche la sua economia. La mia associazione, l'associazione Innovazione e Cultura, di cui io sono presidente, si è al basso della collaborazione di persone molto qualificate, tra cui il dottor Vigiano e il dottor Dao, che sono dei rappresentanti nazionali, dei multinazionali nel settore della comunicazione, nel settore tecnico, che mi hanno dato una mano a titolo amichevole e gratuito, così come ci hanno dato una mano tutti gli attori, i rappresentanti che vengono in quei giorni del 23 e 26 di luglio a Mazzara e anche dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor nel settore dell'alimentazione, tra cui indiettiamo quelle del gambro, del vino, dell'olio e della pasta, che ci consentiranno di fare delle serate quasi a costo zero, in cui noi offriamo, nelle quattro serate, offriamo dei piatti a base di gambro rosso e del vino, con intrattenimento musicale, tra cui amici della De Filippi, tra cui questi master chef e delle attrezioni diverse. Ma l'obiettivo primo per essere concisi è quello di dare al territorio condizioni di conoscenza e di sviluppo, senza le quali la cittadina di Mazzara, che è una bella città dove io sono nato e dove cerchiamo di portare un contributo per lo suo sviluppo, in questi ultimi anni è stato un po', diciamo anche rispetto alle altre città, l'imitrofe è stato un po' assente direi e quindi non abbiamo creato le condizioni minime attrattive per portare dei turisti a Mazzara, di portare alcune personaggi attrattive per Mazzara e quindi creare le condizioni economiche per il suo sviluppo, per la sua conoscenza. Quali sono le idee, secondo lei, per superare queste difficoltà che hanno impedito che Mazzara del Vallo, con un grande porto peschereccio, non possa esportare dappertutto il proprio pescato? Purtroppo mancano delle iniziative, Mazzara nel settore imprenditoriale c'è una totale dissociazione fra le varie categorie e mentre noi vogliamo fare, ora a breve, faremo un consorzio senza fine di lucro per raggruppare queste realtà economiche, per qualificare bene il prodotto, farlo conoscere e quindi anche il mantenimento di certi prezzi, che è una cosa che oggi in una situazione di desgregazione quasi individuale di persone che gestiscono in propria attività riescono sia a sopravvivere ma non hanno una qualificazione del prodotto come avvengono in altre realtà, in altre aziende. Io ho saputo l'altro giorno che fino anche al cannolo di Piana del Albanese, per dire la cosa, che è un prodotto proprio che ha qualificazione, hanno fatto un consorzio per qualificare questo prodotto di quella città e quindi affermarlo sul mercato ed essere fonte di attrazione di persone, di aziende e creare le condizioni di sviluppo della città, cosa che noi dobbiamo fare a Mazzara perché Mazzara ha bisogno di essere attrattiva, di proporre delle iniziative, delle idee propositive senza le quali non si può crescere e quindi l'economia è stagnante, come in realtà è. Lei sa perfettamente che nel settore della pesca la situazione è drammatica, agricoltura è inesistente, quindi dobbiamo creare delle situazioni di sviluppo del turismo e dell'attrettività verso questa cittadina che è una cittadina che è forse una delle più belle cittadine della Sicilia occidentale. Può essere questo un primo passo verso un completo rilancio della pesca mazzarese che in questi ultimi anni ha fatto difficoltà ad affermarsi altrove? Io sono convinto che pesca e agricoltura sono due polmoni straordinari che possano aiutare molto lo sviluppo turistico. Una volta si pensava che bastava avere una buona flotta peschereccia, fare del buon vino per attrarre la gente. Oggi non è più così. Oggi il gambero, come tutto il prodotto ittico della nostra città, diventa persino complementare con quel polmone che è destinato ad essere il primo polmone della nostra città. Non si uccide la pesca, non si uccide l'agricoltura, ma anzi si potenziano queste due aziende della nostra città grazie a questa logica turistica. Quindi è anche un'occasione di rilancio dell'immagine della nostra città, della nostra flotta peschereccia. Perché è vero che il gambero si produce in tutto il mondo, ma ci sarà pure una ragione se il nostro è considerato il migliore del pianeta. Abbiamo degli ambasciatori della nostra città, il Satiro è il capo degli ambasciatori. Abbiamo la Casba che è diventata una ambasciatrice straordinaria della nostra storia e della nostra cultura. E abbiamo il Gambero Rosso che è un ambasciatore che si sta dimostrando qualificato, capace di attrarre l'attenzione non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche della gente comune. conosco molte persone che decidono di venire a Mazzara del Vallo perché si mangia bene, ma se si mangia bene non è soltanto legata alla qualità dello chef, ma anche alla qualità del buon prodotto. E mi sembra anche un'operazione culturale straordinaria, non soltanto una scelta culinaria, perché il Gambero Rosso è diventata espressione della nostra cucina, delle nostre tradizioni, del nostro modo di sederci a tavola. I mille modi con i quali si cucinano prodotti tipici, ittici della nostra città, trovano il massimo appunto nel Gambero Rosso. Ed è una bella iniziativa quella che si sta facendo, perché verrà gente qui a guardare quello che è il nostro territorio, a verificare che sia vero tutto quello che noi stiamo propagandando. Ed è bello anche perché è un'attrazione di carattere turistico molto interessante, che serve, io spero, di aiuto ai tanti operatori della nostra città, agli alberghi, ai bed and breakfast e ai ristoranti. Non sarà soltanto un'occasione per sedersi a tavola, perché ci sono anche eventi mondani, ricreativi e culturali, e spero non sia un appuntamento isolato. Assolutamente, devo dire al dottore San Bartano che la nostra città sta appoggiando molto questo intervento, ci punta perché bisogna che Mazzara del Vallo cominci ad avere degli appuntamenti annuali capaci di attrarre l'attenzione di addetti ai lavori, ma anche della gente di ogni giorno. Entrare nella grande sfera del turismo significa guardarsi intorno. Ci sono tante cose che erano nascoste e in letargo e che si svegliano, perché quando inventi un nuovo polmone scopri che quel polmone, in questo caso il turismo, necessita di materie prime che nessuno ha mai utilizzato. Se uno pensa a Lungomare Mazzini e pensa a quello che era, è stata una cosa semplice, dire togliamo i rifiuti e facciamone una spiaggia in città. Nessuno ci aveva pensato prima, nessuno aveva pensato al restauro della Casba, nessuno aveva pensato a completare la sopraelevata. Ci sono tante cose che sono state dimenticate dai nostri amministratori precedenti. Oggi, grazie anche allo stimolo che proviene dagli operatori turistici, siamo costretti ad aprire l'armadio e a tirare fuori tutti gli indumenti straordinari che possediamo. Siamo con Marco Dau, componente dello staff che ha organizzato i giorni del Gambero a Mazzara del Vallo. Si tratterà pure di Gambero, ma con questo vorrà dire che un paese come il nostro, una terra come la nostra, non va assolutamente indietro. No, no, questa terra ha delle peculiarità come probabilmente nessun altro territorio italiano. L'ha dei prodotti naturali, questo specifico di cui parliamo del Gambero Rosso, è un prodotto ottico di assoluta eccellenza. È un prodotto probabilmente che non è valorizzato o consigliato come dovrebbe. ed è un prodotto eccellente come tanti altri prodotti di questo territorio che contribuiscono a valorizzare l'economia locale e a dare un contributo anche al turismo. Perché nell'occasione specifica noi abbiamo pensato, secondando poi una intuizione del professor Sanmartano, che voglio dire è un siciliano doc e quindi per questo territorio voleva fare qualche cosa e insieme a noi ha progettato questa kermesse popolare che vede una manifestazione di spettacoli con i ragazzi di amici e in più saranno presenti questi tre chef che hanno partecipato all'ultima direzione di Masterchef e che si esibiranno in quattro giorni cucinando tre ricette diverse ognuno ma dove l'elemento centrale è il Gambero Rosso. Quindi è un contributo a questo prodotto, all'economia complessiva di questo paese in un contesto molto popolare come quella di questa manifestazione. Una tre giorni che avrà altri ospiti, quali? Ma oltre ai ragazzi di amici mi sembra che ci siano, adesso io non mi occupo particolarmente dello spettacolo ma c'è una kermesse, c'è un DJ, ci sono altri spettacoli musicali durante tutta la giornata. Certo l'elemento d'attrazione sarà il 23, la presenza di questi tre ragazzi di amici che erano presenti all'ultima manifestazione e che saranno motivo d'attrazione. Noi ospichiamo che ci sarà un sacco di gente che verrà a questa manifestazione. Grazie a tutti.